bella ragazzi un mega benvenutozzo a tutti da marco drums partitella serale al code vediamo se riesco a replicare un po la mega giocata di stamattina appena svegliato ma non lo so comunque ci divertiamo un po insieme raga catturiamo l'obiettivo spero che la prima kill è mia ma non è c'è chi non c'è chi postazione in sicurezza abbiamo perso la postazione aereo spia o stile in solvolo sulla zona postazione in sicurezza postazione localizzata postazione in sicurezza contendiamo la postazione postazione persa dai 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 aereo spia o stile in solvolo sulla zona postazione in sicurezza aereo spia in allontanamento contatto con aereo spia postazione localizzata i nemici hanno la postazione rapporto attacco al napole in arrivo No! 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 dai 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 è dove la sua pazienza? chiaramente il 60 e il 60 e il 60 e il 60 e il 40 La porticchina Bella lì, è in tre E ho preso anche la postazione Oh, oh, oh Non me l'aspettavo Underground Sempre uno dietro Quale è? Quale è? Cos'era? La filiaria Aereo di controspionaggio ostile in zona Ok Ho collegato la filiaria Postazione in sicurezza Aereo Aereo spia nemico inazuch Poi E vabbè ragazzi E vabbè Postazione in sicurezza Contendiamo la postazione Contendiamo la postazione Postazione contesa Questo obiettivo è messa Contendiamo la postazione Aereo spia ostile in solvolo sulla zona Approvvigionamento nemico nell'area Abbiamo perso la postazione Postazione individuata La postazione è persa Rileviamo diversi aerei spia nemici Postazione in sicurezza Ah 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 Ti ha accotto Ahsunami davanti al giro Guarda che si trova fanno il giro da dietro che sono tipo gazzetta tipo fucile, certo questo non si prende dentro il mondo guarda, guarda, guarda le mie bombe i nemici fanno la postazione aereo seria nemico in arrivo attacco al napal nemico imminente forza, ci resta poco tempo postazione sotto controllo i nemici hanno conquistato la postazione aereo spia o spie in soldolo sulla zona aereo spie in soldi Grazie a tutti Non è proprio come stamattina Io il mio meglio l'ho fatto Io il mio meglio l'ho fatto Non è come stamattina ma il mio meglio l'ho fatto Ecco, sì Vediamo un attimo Un attimo Mi piaceva tanto Facciamo così Troviamo un'altra partitella Insieme a Olivia che è qui con me La mia moglie Eccola Eccola che parte la partita Dai 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 Impegno un altro round Si è già partita Chiaramente Ci può partire è una partita quasi diversa mi posso arrivare vabbè vabbè è proprio il nuovo la pego magari la teniamo postazione localizzata i nemici hanno la postazione postazione sotto controllo abbiamo perso la postazione vai di là eh eccola questa è una partita un po' postazione in sicurezza scontentiamo la postazione abbiamo perso la postazione postazione sotto controllo postazione individuata postazione in sicurezza proprio il gioco io e gli altri sono di guardare e ho com'è questa storia postazione contesa abbiamo perso la postazione dove hai fatto la postazione se c'è non è postazione in sicurezza aereo spia ostile in sorvolo sulla zona rileviamo diversi aereo postazione contesa rcxd ostile nell'area operativa ah ma chiudi la ecco postazione localizzata i nemici hanno conquistato la postazione aereo spia ostile rileviamo diversi aerei spianici dai non giottiamo loro il fallimento non è contemplato dobbiamo recuperare postazione sotto controllo contendiamo la postazione ahhh ho messo di piede postazione contesa i nemici hanno conquistato la postazione attacco al navo al nemico imminente postazione in sicurezza no artiglieria nemica in fase di puntamento no tutta la mano qua vado vado me lo vado postazione sotto controllo contendiamo la postazione abbiamo perso la postazione postazione in sicurezza Siamo in vantaggio. 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 Vantaggio. Siamo in 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 vantaggio. Ah, è sempre uno dietro l'altro. Siamo in vantaggio. 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 N Nicolette P lerdatuano. Alla fine. Siamo in vantaggio. Ehm. Gli cosa puoi朧 che importa. Solo puoijest cavliare. Siamo in vantaggio, l'arco地**i. Siamo in vantaggio. includea nelle mestri. ci sta ci sta boom kaboom bomba ci sta 28 12 dai va bene ragazzi dai sono un po stanchino per giocare call of duty sono già quasi le 10 mi dedicherò qualcosa di più tranquillo magari in live adesso vediamo un po e per stasera e per oggi domenica è chiuso capitolo call of duty grazie di guardarmi di vedere i miei video se mi lasciate like tutti l'ambarada vi ringrazio e un saluto dal vostro marco drums ciao ragazzi ciao a presto ciao 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 ciao